Mattia, il tuo gol a Terni ha regalato una vittoria importante, l'aspettavate da un po' fuori casa, sei stato baciale, freddo dal dischetto, tre punti preziosi. Sì, sapevamo che era una partita difficile, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta, era una vittoria fuori casa che ci serviva e ora dobbiamo dare continuità di risultati. Ecco, c'è poco tempo, anzi non c'è più tempo per festeggiare e godersi questa vittoria, manca poco al big match contro il Pisa, avete voglia anche di riscattare la sconfitta dell'andata, sarà una partita tosta. Sì, sappiamo che affrontiamo una squadra forte, una squadra che ha dimostrato in questo campionato di valere tanto, infatti anche all'andata ci hanno messo molto in difficoltà e dobbiamo essere pronti, anche perché comunque gli scontri diretti in questo momento abbiamo fatto un po' fatica e quindi dobbiamo farci trovare pronti sabato. Sei stato tra i giocatori che ha parlato col presidente Berlusconi dopo Monza Spalla, che carica vi ha dato, ha promesso di esserci anche sabato? Sì, tanta, comunque è una persona molto carismatica, quindi ci ha trasmesso anche con qualche parola tanta carica, ci tiene molto e quindi vogliamo già da sabato, con la presenza sua che sarà fondamentale, dargli un'altra gioia. Vi può dare tanto anche il pubblico di Monza? Vuoi fare un appello per sabato ai tifosi? Sì, come sempre arrivano numerosi e quindi anche sabato speriamo che lo siano, perché serve anche il loro aiuto, serve la carica loro e serve tutti insieme arrivare all'obiettivo. Grazie. Grazie.